la mia giornata tipo guardo le ultime notizie del telegiornale poi ascolto un po di musica guardo serie tv durante il pomeriggio cerco di allenarmi quello che posso facendo forza arti superiori anche gambe qui a casa e la sera guardo film la mia serie tv preferita è picky blinders il mio film preferito è dura perché diciamo che come regista preferito quentin tarantino quindi tra i dei suoi film li metto al primo posto ovvero django pulp fiction e dateful hate la mia canzone preferita e power di kane west se non fossi diventato calciatore avrei proseguito con gli studi e quindi sarei diventato disegnatore meccanico altrimenti restando in ambito sportivo direi personal trainer o preparatore atletico il mio giocatore preferito per mentalità dico cristiano ronaldo perché ha sempre lavorato duro per raggiungere gli obiettivi e poi essendo cresciuto con il milan nel cuore perché provengo da una famiglia tutta milanista citerei kaka è la figura a cui mi sono ispirato di più mentre invece il mio giocatore preferito oggi facendo la mezzala direi de brunin del manchester city partendo dal momento più difficile sicuramente è stato quando durante il settore giovanile per due o tre anni giocavo poco per via anche del mio fisico l'impegno non mancava mai anche durante gli allenamenti la voglia c'è sempre stata e forse è stato in quel momento che ho imparato a non mollare invece momento diciamo uno dei più belli è stato la scorsa estate durante l'international l'international champions cup mi è stato concesso di giocare qualche minuto contro bayern monaco benfica e manchester united il più casinista è son cin quello che parla di più alessandro sala sia dentro il campo che fuori il più forte sono io no a parte gli scherzi il livello è molto alto quindi non sarebbe giusto citarne solo uno ma sono tutti forti il giocatore quello che mi impressionato di più è benasser perché comunque nonostante abbia un fisico piccolino riesce a primeggiare nei duelli è anche una tecnica di base molto elevata tra i giocatori invece che che mi hanno dato più consigli abate l'anno scorso quest'anno lo stesso ibrahimovic cialano glu biglia e romagnoli tendono sempre a dare una mano ai ragazzi più giovani ho provato a rubare dei segreti in campo dai giocatori che giocano nel mio ruolo buonaventura benasser mi ha colpito molto la mentalità di ibrahimovic che è vero che durante le partitelle non le vuole mai perdere vuole sempre vincere quindi la sua mentalità vincente mi ha colpito molto infine volevo fare un appello a tutte le persone dicendo di restare a casa perché un piccolo nostro contributo può salvare molte vite è impressionante il numero delle ambulanze delle sirene che si sente qui a casa mia vicino a casa mia perché vivo nella zona di Brescia che è una tra le più colpite assieme a Bergamo e quindi ci tenevo a ringraziare tutti i medici in prima linea e sanitari e la protezione civile